Benvenuti a Salute Sanità da Eva Perassa e benvenuto a dottor Luigi Martinelli. Dottore, grazie per essere qui con noi, il dottor Martinelli, cardiochirurgo di ICLAS Rapallo, dopo una carriera, diciamo così, una vita anche in giro per l'Italia, più volte quando ci è venuta a trovare l'abbiamo raccontato, e ora abbastanza stabilmente sulla riviera Ligure. Dottore, oggi parliamo di valvola mitrale, la ringrazio per averci portato questo tema, le valvole del cuore sono quattro e la mitrale in particolare ha un'importanza fondamentale, perché? La mitrale, beh, tutte le quattro valvole cardiache sono ugualmente importanti, hanno purtroppo la tendenza ad ammalarsi, con l'aumentare degli anni queste tendono ad avere dei problemi, come tutte le cose, anche le valvole del motore lo fanno. La valvola mitrale è particolarmente importante perché ha due caratteristiche, una che si ammala per vari motivi lungo tutto l'arco della vita, ed è una malattia cardiaca che colpisce anche le persone giovani o relativamente giovani, ovviamente più si va avanti con l'età più la frequenza di malattia si accentua, e poi perché è una valvola in alcuni, anzi in molti casi, riparabile, riparabile con metodiche mini invasive, quindi senza il taglio come il pollo o queste cose qui, con una piccola incisione laterale del torace, e dopo questa riparazione la malattia è praticamente neutralizzata, quindi il paziente può tornare a una vita del tutto normale. Ecco, lei mi diceva, invecchiamo, giustamente la vita si allunga e la valvola mitrale, come le altre valvole, ovviamente soffre dell'usura del tempo, chiamiamola così, anche spesso addirittura però è asintomatico il problema che può avere la valvola. Sì, in realtà la valvola, una certa diciamo quota di valvole mitrali che si ammalano perché hanno una debolezza congenita, strutturalmente la valvola mitrale è fatta come una mitra del vescovo sostanzialmente, che si apre e si chiude e ha una zona dove questo meccanismo di apertura e chiusura è più debole perché è trattenuta all'interno del ventricolo da delle corde che possono rompersi. In alcuni punti della valvola, sul lembo posteriore, tecnicamente, queste corde possono rompersi. E la valvola può avere un prolasso, cioè invece di rimanere piatta durante la fase cardiaca in cui deve bloccare il sangue nella sua posizione giusta, tende a capottare, diciamo così. Per cui il sangue che dovrebbe stare in ventricolo e passare in aorta durante la sistole tende a ritornare nell'atrio sinistro e quindi nei polmoni e a intasare i polmoni. Questo è il meccanismo, diciamo, più frequente. Ci sono dei sintomi che possiamo riconoscere che possono farci supporre che ci sia un problema alla valvola mitrale? Sì, il sintomo più classico è la mancanza di fiato per l'attività, diciamo, a cui siamo abituati. Cioè noi siamo abituati a fare una certa vita e a un certo punto ci accorgiamo che, non so, l'ultimo piano di scale devo fermarmi perché non è più come l'anno scorso che lo facevo di corsa. Magari io ho un anno di più, però, insomma, è un po' una scusa, ecco, quando si fanno queste considerazioni. Non è sempre colpa dell'età che avanza, dottor Martinelli, per fortuna non sempre. Non sempre, non sempre, non sempre. E quindi questo è il sintomo più l'affaticamento. E poi un altro sintomo così abbastanza caratteristico, proprio della valvola mitrale, è la sensazione di cardiopalmo. Quelle aritmie importanti, quella sensazione proprio di batticuore, che ovviamente è comune a mille malattie cardiache, però nell'ambito della valvola mitrale è piuttosto frequente, perché, come dicevo prima, questo sangue che invece di andare nella direzione giusta, quando la valvola si ammala, a un certo punto torna indietro. Torna indietro e dilatta l'atrio e di conseguenza dà un ingorgo nei polmoni. Il paziente sente il fiato che manca, ma anche l'atrio reagisce con delle aritmie. Ecco, in quei casi visita dallo specialista mi pare sia il passaggio d'obbligo che... Direi che visita dal medico di base, direi, il quale metterà il fonendo sulla valvola, cioè sentirà il soffio e se si sente il soffio è necessario e obbligatorio fare un ecocardiogramma. Ecocardiogramma. C'è un modo, si guarisce per fortuna, questa è la bella notizia, grazie alla cardiochirurgia, grazie a un intervento, ce lo racconti, lei ne fa tanti? Ne faccio tanti, sì, devo dire che mi sono in qualche maniera specializzato in questo tipo di chirurgia, cioè tra i vari tipi di chirurgia che ho coltivato, diciamo, nella mia professione, e sto coltivando in questo periodo proprio la chirurgia della mitrale con tecnica mini-invasiva, quindi con una piccola incisione... Ci aiuti a capire, di tecnica mini-invasiva avevamo già parlato, però ci racconti anche... Per tante cose, cioè ogni chirurgia può essere fatta o con grandi aperture o con piccoli accessi. Per la valvola mitrale è, diciamo così, possibile, anzi diventa poi l'accesso più facile questo, è possibile usare tecniche mini-invasive perché la valvola mitrale è messa proprio dietro lo sterno e quindi se noi cerchiamo di raggiungerla di lato, la vediamo proprio di fronte a noi e quindi, diciamo così, in maniera abbastanza agevole, riusciamo ad agire sulle sue strutture per ripararle. Le strutture della valvola mitrale sono i lembi valvolari, ma ci sono, come dicevo prima, le corde che la sostengono e i muscoli papillari, che sono dei muscoli del cuore a cui è attaccata. Quindi per ripararle bisogna agire su quella o quelle strutture che sono ammalate. Non tutti possono fare questo intervento, è vero, è così? Non tutti possono fare questo intervento. Un chirurgo, diciamo così, preparato lo può fare, però richiede effettivamente una dedizione particolare, una specializzazione, anche una, diciamo così, un'esperienza e una continuità dell'esperienza. Cioè, io per esempio ne faccio almeno due la settimana di questi tipi di interventi, in modo tale da mantenere proprio quella, anche quella manualità che è necessaria. Poi tutta l'equip che, diciamo così, è abituata a gestire questo tipo di pazienti. Ma è un intervento difficile, anche rispetto al paziente? È un intervento da cui ci si riprende facilmente? Beh sì, per il paziente è un intervento da cui si... ovviamente. Gli interventi cardiochirurgici sono tutti difficili, cioè sono interventi impegnativi, perché è come, insomma, riparare il motore di una macchina mentre questa va, perché il cuore è il motore, lo si deve fermare, lo si deve riparare, si deve mantenere il corpo in vita, diciamo, quindi con la macchina della circolazione stracorporea. Però sono tutte tecnologie ormai acquisite, sono tecniche che gli infermieri, i tecnici perfusionisti conoscono, gli anestesisti conoscono. Quindi, nell'ambito della delicatezza, sicuramente è un intervento che consente la neutralizzazione, come dicevo prima, della malattia. Questo è il... Che cosa accade allora, così le chiedo in chiusura, se non ci operiamo. Quindi se lasciamo andare anche i sintomi. Esatto, perché la valvola mitralica, contrariamente ad altre valve, tipo la valvola ortica, quando si ammala in maniera severa, dà dei sintomi importanti, anche gravissimi. La valvola mitrale è sudola, perché i meccanismi di compenso sono tanti, quindi il cuore si dilata poco a poco, le aritmie diventano più frequenti, si arriva alla fibrillazione atriale cronica, che è un'aritmia fastidiosa, perché bisogna prendere l'anticoagulante sempre e comunque, la funzione, diciamo, cardiaca poi non è mai così buona, perché sotto sforzo poi il cuore comincia a battere in maniera incontrollata. E pian piano si va incontro allo scompenso che, se non adeguatamente trattato, diventa refrattario. Quindi è una lenta, diciamo così, progressione negativa, che è meglio interrompere, appunto come dicevo prima, perché con un intervento di minor impatto si neutralizza la malattia. Si neutralizza la malattia e allora assolutamente, meno male che c'è la cardiochirurgia. Sì, sì, vero, meno male che c'è la cardiochirurgia. È possibile intervenire, comunque questa è pur sempre una buona notizia, anche se si soffre di un qualche problema alla valvola mitrale. Dottor Martinelli, la ringrazio molto per essere stato con noi e per le sue parole, la invito a tornare a trovarci, saluto i nostri spettatori e arrivederci da Eva Perassi alla prossima puntata.